La nostra operazione oggi era quella di dire al Ministro Orlando che siamo assolutamente pronti a dare delle risposte chiare, nette e veloci al tema della corruzione. Noi siamo disposti anche a votare un provvedimento che al Senato è stato già discusso, il Senato ha già lavorato su questi temi, quindi chiediamo al Governo di non fare un disegno di legge governativo che potrebbe rallentare i lavori. Siccome entro fine giugno il Parlamento potrebbe già dare una risposta importante a questi temi, non c'è un motivo perché il Governo debba agire. Il Ministro ci ha detto che al momento non è previsto nessun disegno di legge, domani si riunirà il Consiglio dei Ministri, si farà portavoce della nostra proposta con il Presidente del Consiglio e domani ci daranno una risposta. Quindi noi ci rivolgiamo direttamente a Renzi dicendogli che è una occasione unica che il Parlamento non deve lasciarsi sfuggire di dare una risposta netta e chiara al problema della corruzione, in questo all'appoggio del Movimento 5 Stelle. Come abbiamo sempre detto, sui temi che fanno gli interessi dei cittadini non mancheremo mai e questa è la nostra posizione.